Una delle funzioni del mio lavoro è quella di formare e di dare tutti gli strumenti necessari agli allenatori, agli educatori per entrare in contatto con i bambini, per imparare a gestire meglio la parte emotiva. È stato un gruppo che si è messo in discussione, che è stato disponibile a giocare, a crescere. Mi è piaciuto soprattutto il pensiero di avere il contatto con i bambini. Abbiamo fatto degli esercizi per conoscerci meglio e capire le caratteristiche degli altri. Bisogna cercare sempre di ascoltare chi è di fronte e capire le sue necessità. Ho una giornata molto attiva e mi ha trasmesso molta tecnica, mi ha trasmesso molta energia. Direi proprio che è stata un'esperienza nuova e bellissima. Con questi esercizi che abbiamo imparato grazie a Cristina sappiamo come creare una squadra anche con i bambini. Credo che sia l'inizio di una nuova era per il rugby e per i bambini.